Noi, non so come, un giorno, una domenica, molto assolata, ci trovammo poi all'università di Pisa dove stavamo, era uscito in un festival, Germania Nozero, noi con pochi altri, vediamo questo film, usciamo in silenzio, gli altri vanno via, noi rimaniamo sul portone della sapienza con un certo disagio, molto silenziosi, con un certo disagio a riprendere la strada di casa, non parlavamo tra noi ma c'era qualcosa che ci feriva alla vista, la nostra madre come sempre ci aspettava, eravamo molto giovani e noi avevamo uso spesso di raccontare a lei quello che avevamo visto, che avevamo letto, ma quella mattina gli dicevamo scusaci ma dopo quello che abbiamo visto non riusciamo a parlarti, non riusciamo a farti capire, a farti vedere e lo dicevamo con quella morbosità esaltata dei giovani, quando un giovane si rende conto di avere scoperto, alla coscienza di avere scoperto qualcosa di definitivo e di importante e noi due avevamo capito quel giorno che un segno fondamentale del cinema era la luce e Rossellini ce l'aveva insegnata una volta per sempre, perché senza pietà è cattiva è la luce di certe sequenze di Germania no zero e non ci siano zone d'ombra che nascondano niente, tutto si deve vedere perché tutto va ricordato per sempre. Questo era un po' ci sembrava il segno di questo film e allora mi ricordo che cercammo proprio di avere una luce, non quella cattiva di Rossellini, ma una luce che mediasse tra gli eventi, la storia, gli uomini, la natura e che avesse una limpidezza che in fondo si apriva anche a una speranza del futuro. La cosa bella è stata quando ricevemmo la Palmadora a Canne per padre e padrone, da quelle mani che avevano realizzato Paesà, cioè da Rossellini che era presidente della giuria e era come se un cerchio luminoso si fosse saldato.